Un piano anti-indrangheta per allontanare figli, mamme, donne d'indrine dal clan. Non è un invito dello Stato alla collaborazione o al pentimento, ma l'offerta di una scelta di vita diversa lontano dai boss. Se ci fosse stato quando era piccola Maria Concetta Cacciola, forse non sarebbe stata uccisa con il beneplacido dei suoi genitori quando decisi di raccontare il malaffare della sua famiglia sette anni fa, nel 2011. Sarebbe andata via anni prima dalla Calabria. Il piano, sostenuto economicamente dalla SCEI, che agirà attraverso Libera di Don Luigi Ciotti e le Caritas Diocesane, ha ricevuto il sostegno operativo del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e della Direzione Nazionale Antimafia guidata da Federico Caffiero de Rao, insieme con i Tribunali Territoriali Ordinari e dei Minori. C'è una rivoluzione che sta avvenendo all'interno del mondo di tante mamme, di tante donne, che rompono questi codici millenari, che per amore viscerare verso i figli cercano un'altra strada per non far ricrescere la cultura mafiosa. L'obiettivo comune è quello di attivare una rete di sostegno tra giurisdizione, governo, chiesa e mondo affociazionistico che possa permettere di tutelare e assicurare una concreta alternativa di vita a minori, donne e mamme, provenienti da famiglie di indrangheta. In questo caso in realtà fragili non sono soltanto i bambini, ma sono anche le mamme coraggiose che guardando negli occhi i loro figli prevedono che esista la possibilità di una vita diversa, di una vita diversa di quella segnata dal malaffare, diversa da quella segnata dalla malavita, diversa segnata dalla mancanza di speranza. Il progetto sarà in pratica testato in Calabria, dove la lotta contro l'andrangheta è ancora agli albori e la situazione è difficilissima e poi sarà esteso a tutto il paese.